Lotta ed è veramente il gioiello della nostra nuova flotta di aereo. 3.50 Qua abbiamo ovviamente dei dettagli, delle specifiche sul volo. Abbiamo 280 passeggeri divisi in tre classi, una business class, una premium economy e un economy e un ambiente dove abbiamo davvero curato ogni elemento per riposo, dando proprio anche degli spazi in più per ogni singolo passeggero in ogni classe, delle illuminazioni più naturali che seguono comunque l'andamento del giorno, su quale si può combattere anche di più gli effetti del jet lag, una pressurizzazione diversa, anche qua per il benessere dei nostri passeggeri, con comunque delle caratteristiche tecniche che ci permettono anche di avere un minore impatto sull'ambiente, sia a livello di emissioni che a livello comunque acustico.